Svolta nelle indagini per l'omicidio di Luca Mameli, il 35enne di Capoterra ha coltellato poco prima dell'alba, all'esterno di un locale del lungomare del Poeto di Quartu, in seguito, stando alle prime ricostruzioni, a una discussione tra coetanei degenerata poi in rissa. Due giovani di Flumini di Quartu sarebbero stati fermati dagli agenti della squadra mobile della Questura di Cagliari, in relazione al delitto di Mameli, morto poco dopo il suo trasferimento in condizioni disperate all'ospedale Brozzo di Cagliari. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della Polizia Scientifica, che hanno effettuato i rilievi sul luogo dell'accoltellamento, mentre in Questura, per tutta la giornata, si è proceduto a raccogliere le testimonianze degli amici della vittima e ad esaminare i filmati delle telecamere installate nella zona. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Cagliari.